Impazza la polemica sui social network relativamente alla Notte Bianca del Vomero, un evento che da una parte ha generato un'assordante confusione, dall'altra è stata un flop in verosimile sul fronte del commercio. E chi si aspettava il grande shopping notturno è rimasto deluso, constatando che gli esercizi commerciali erano irrimediabilmente vuoti a fronte di strade stracolme di persone, giunte più per incasinare che per passeggiare. Ma la cosa che ha pesato di più di tutte sui residenti del quartiere collinare di Napoli è stata la mega gabbia veicolare imposta dall'assessore Anna Donati, che ha intrappolato i cittadini in casa per tutta la notte. Ovviamente come c'era da attendersi qualche quotidiano foraggiato da Palazzo San Giacomo è evidenziato come il divieto di circolazione ha reso più agevole e piacevole la passeggiata serale. Ma forse l'attente ed arguta cronista che ha redatto il pezzo ha pensato di essere a Via Caracciolo e non al Vomero probabilmente. Tanti commercianti della zona hanno sottolineato come i loro esercizi sono stati chiusi alle 22, vista l'affluenza zero di avventori anche solo per dare un'occhiata alle vetrine. Hanno retto l'urto dello shopping sotto tono solo bar e luoghi di ritrovo dove si mangia, d'altra parte la fame è l'unico bene veramente pubblico. Di dittatura parla l'avvocato Angelo Pisani, presidente dell'ottava municipalità e residente del Vomero. Vomeresi chiusi in casa senza poter prendere l'auto per uscire e andare altrove sono rimasti intrappolati in una festa che forse nemmeno volevano. A questo punto si tirano le somme della città viva a tutti i costi, di queste operazioni politico-sociali che interessano solo la De Magistris S.p.A., fatta di feste, festarelle di ogni genere, spettacolarizzazioni di tutto ciò che è possibile trasformare in teatro, magari anche il contraddittorio politico sui problemi, di una città difficile presa per la gola e abbandonata dopo un anno. Da questa situazione, volendo guardare in faccia la realtà, ne viene fuori una Napoli ostaggio dei soliti noti e di quella macchina organizzativa che utilizza i soldi pubblici per propagandare operazioni di facciata.